In dieci giorni nuove sanzioni per abbandono di rifiuti indifferenziati nei cestini urbani sono i risultati dell'operazione condotta dalla polizia locale in sinergia con le guardie ecologiche volontarie per favorire la corretta pratica della raccolta differenziata in città. I controlli sono avvenuti sia in centro che in periferia a seguito di segnalazioni da parte del gestore del servizio della raccolta dei rifiuti e in qualche caso di cittadini che hanno a cuore il decoro della città. Gli abbandoni generalmente si sono verificati nelle ore in cui la città è meno frequentata, primissima mattina o tarda notte. In un caso, quello più stravagante, il cittadino nascondeva il sacco indifferenziato in una borsa sportiva durante il tragitto dalla casa al cestino per poi riporre il sacchetto nel contenitore urbano. In qualche caso gli autori degli abbandoni fermati non sono risultati residenti a Cremona ma in provincia. Si portavano i rifiuti da casa e li abbandonavano nei cestini del centro prima di andare al lavoro.